le macchinine colorate e il campo di paintball quante volte ci siamo divertiti spruzzando colori stiamo andando con le nostre amiche al campo di paintball per fare una partita ci siamo sapete come si gioca paintball? dobbiamo colpire i nostri avversari con della vernice innocua usando un'apposita lancia è molto divertente e nessuno si farà male una lancia a testa e... scegliamo un colore quale? la macchinina verde sceglie il colore verde la macchinina rossa sceglie la vernice rossa la macchinina gialla sceglie il giallo e la macchinina blu sceglie il blu ma abbiamo altri colori macchinine marrone nero arancione e... viola la prima mossa delle macchinine è colorare questi elementi con la vernice del loro stesso colore rosso blu giallo bellissimi colori ops la macchinina gialla ha sporcato di giallo la macchinina rossa che la insegue per tutto il campo di paintball la macchinina blu vuole partecipare al gioco e corre con loro ma... che divertimento che divertimento ok non m avete ancora la vernice? no? allora andiamo a riempire di nuovo i vostri servatoi facciamo rifornimento e via di nuovo a giocare macchinina blu hai sbattuto hai sbattuto contro i servatoi di rifornimento tutti i colori si sono mischiati bisogna pulire anche il campo di paintball e se andassimo a cercare un po di aiuto siete d'accordo diamoci da fare ma nella prossima puntata a divertirci ancora ciao